Allora, riassunto delle puntate precedenti. Tre mesi fa circa questo spazio YouTube si è fatto portavoce di una chiamata all'azione. L'obiettivo primario è aumentare gli ascolti su D-Max. Vedete, abbiamo anche la programmazione a schermo facendo sapere a più gente possibile che gli show della WWE sono in onda su quell'emittente. Come farlo? Condividendo i post social dell'editore e i miei e quelli di Luca Franchini. Obiettivo secondario è aumentare i numeri social di chi telecronaca il wrestling in tv per dargli più peso nelle azioni che compie a beneficio del prodotto, lontano da ciò che potete vedere. E devo dire che all'inizio la partecipazione è stata importante. Le condivisioni sono state numerose. I dirigenti di D-Max, ve l'ho detto, se ne sono accorti. E per quanto vi posso riferire, anche gli indici di ascolto ne hanno guadagnato in salute. Purtroppo, ancora oggi, lo vedo quando raramente propongo una diretta su TikTok, dove c'è un pubblico magari un pochino più giovane o un pochino più distratto, Beh, lì mi accorgo che in tantissimi non sanno che Raw, SmackDown ed NXT sono visibili gratis sul 52 del digitale e sul 170 del bouquet di Sky. In quanto a YouTube, che è il mio social di riferimento, ecco qui la home page, l'aumento è stato di 1800 iscritti in tre mesi. Niente male. Resta il fatto che averne 69.000 è davvero poco. Se penso a quello che potrei fare con 200.000, tanto per dire, ma vi garantisco che indipendentemente da quanti siate, ho mosso al meglio le bocce per come posso, per come vale al momento questo risultato social. E parlando di risultati concreti, beh, per ora abbiamo il live event a Bologna, quello del primo maggio, con la nostra azione che potrebbe aver avuto un peso oppure no, magari è solo una coincidenza, ma alla peggio abbiamo azionato un karma positivo, una ruota di ottimismo che si è tramutata in una bella notizia. Poteva esserci anche qualcosa in più? Beh, sì. E ci si sta ancora provando a dirla tutta, ma ho come l'impressione che quanto accaduto abbia generato un po' l'effetto sazietà. Ma insomma, ormai vengono col tour, ce l'abbiamo fatta. Ecco, pensare questo potrebbe essere un errore, perché ritirare i remi in barca dopo la prima fragola, quando potrebbero essercene altre, non è una scelta saggia. Ok? Allora, questa è la mia fanpage di Facebook, nel caso iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto. E ieri, per il lancio di SmackDown, vedo solo 26 condivisioni. Eh, sono pochine. Eh? Insomma, arrivavamo a 80, quasi 100 prima. E su quella di D-Max siamo a 19. Insomma, sommandole non superiamo le 50. Anche le interazioni su Instagram, beh, per quanto buone, eh, non sono quelle di prima. Sono in leggero calo. Anche le condivisioni di queste storie, no? Quando faccio i lanci di SmackDown, di Raw e di NXT, eh, le vedo in calo. E lo stesso, devo dire, anche per D-Max, che ora, vedete, ha buoni numeri su tutto ciò che riguarda il wrestling WWE. Però, anche da qui, ho come l'impressione che l'entusiasmo sia un pochino evaporato. Quindi, prendete questo video come uno sprone, come un invito a non desistere e ad andare avanti. Non molliamo il colpo. Ve lo assicuro, non sto parlando a vanvera. Magari vi sembra che il fare queste cose smuova poco, ma non è così. E ci sono ancora tante situazioni che, magari, con la nostra spinta, con la nostra collaborazione distante da attori non protagonisti, potrebbero avere una maggiore probabilità di diventare realtà. Quindi, ragazzi, per favore, vi avevo promesso, di tanto in tanto, di tornare sull'argomento. Non smettiamo ora. Nel primo pomeriggio di oggi, se state vedendo il video di mercoledì, il 6 di marzo, escono i lanci di NXT. Fatemi vedere 100 condivisioni su Facebook. E tante, 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 nelle stories di Instagram. Datemi retta, facciamolo. Vedrete questo video qua in migliaia. Ecco, non pensiate sempre che debbano essere gli altri ad agire. Rendiamola un'abitudine che non scompare. E lo so, sono autoreferenziale, ma se non siete iscritti al mio canale, per favore, fatelo. Datemi la forza per fare di più, perché posso farlo. Ma oggi, per molti interlocutori, ve lo ribadisco, conta solo il consenso rappresentato dai numeri, e non come lo ottieni. E i miei numeri sono modesti. Tornando allo show di Bologna, visto che in tanti ce lo state chiedendo, ad ora io e Luca non abbiamo ancora la certezza di esserci. Ma sembrerebbe che si stiano stabilendo le basi per una nostra presenza. Quando però ci sarà una sicurezza, chiaramente ve ne daremo conferma immediata, nel bene o nel male. Ad oggi sorge il sole. Oh, però poi magari arrivano le nuvole e vai a sapere. Sul resto, e concludo, abbiamo preso la strada giusta, ve l'ho detto anche in precedenza, e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno deciso, con impegno, di seguire la mia bandiera, che in realtà è la vostra. Quella di chi ama la WWE e desidera che abbia più spazi e possibilità nel nostro paese. Ma lo ribadisco, non dobbiamo fermarci adesso sul più bello. Dai! Dai! E con questo ho terminato. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. E soprattutto proseguiamo nell'azione congiunta. 100 condivisioni, minimo per NXT. Dai! E anche per gli eventi della settimana prossima. Dobbiamo farle per forza. Diamoci questo impegno. E poi, ovviamente, se volete parlarne, oppure organizzare altre iniziative di sostegno, beh, come al solito, con dita roventi, lo spazio dei commenti è a vostra completa disposizione. e poi, oben per la sua parte di questo video. E poi, cosa è un po' di più,